Il santuario di Santa Maria di Ponte Metauro è uno dei luoghi religiosi più cari alla città di Fano. Nei secoli è stato meta di molti pellegrini e pellegrinaggi. Nel 1399, il più noto, lo fecero i riminesi guidati da Carlo Malatesta per ringraziare la Madonna del Ponte per la fine di una grande pestilenza. Il pontefice Giovanni Paolo II, poi, durante la sua visita nell'84, incoronò il quadro della Madonna del Ponte, nominandola protettrice dei marinai. Rimasto negli anni un punto di riferimento per la comunità locale, questo luogo che sorge lungo la Statale 16, in prossimità del ponte che scavalca il fiume Metauro, è visitato soprattutto nel periodo di Pasqua, visto che al martedì successivo è la festa del santuario. Oggi, però, a causa del Covid-19 e delle misure restrittive, non solo la pineta adiacente è rimasta chiusa, ma non è stato possibile organizzare neppure il tradizionale programma, con le iniziative solidali e le celebrazioni delle sante messe nell'arco di tutta la giornata. Oggi era una grande festa qui al Ponte Metauro, c'era il pontificale con il vescovo, la pesca di beneficenza, e veniva tanta gente non solo dalla città, ma anche dalle città vicine. Purtroppo, a causa del coronavirus, oggi le cose sono andate così, quindi ci limiteremo noi a fare una messa registrata. La celebrazione viene fatta in tonno minore. Questa Madonna che è stata venerata dal 1200, e questo santuario mariano è uno dei più antichi d'Italia. Anche adesso mi hanno scritto da Roma, perché vogliono notizie su questo santuario della Madonna. Invito tutti i nostri parrocchiani a tenere duro in questo momento così difficile. Ne abbiamo passate tante, passata la Spagnola, ne abbiamo passate in colera. Ecco, io penso che la Madonna del Ponte non ci saprà proteggere.